Il comitato civico Paternocec chiede chiarimenti sulla iniziativa lanciata in metodo alla questione rifiuti e tante le attività intraprese ma poche non chiare le intenzioni dell'amministrazione. Vediamo. Un comitato sempre in prima linea, quello di Paternocec, che da tempo segue e propone iniziativa sul tema della gestione rifiuti. E questo pomeriggio i nostri microfoni, due portavoce del comitato, hanno spiegato quali sono state le iniziative principali del progetto Paterno si pulisce. Iter che ha visto coinvolte scuole e associazioni per sensibilizzare l'intera città a tutelare se stessa. Abbiamo iniziato la stesura di una bozza da presentare ai consiglieri di delibera di adesione alla strategia rifiuti zero. I consiglieri comunali l'hanno fatta propria e sono arrivati ad approvarla all'unanimità nel mese di marzo 2014. Tante piccole iniziative sono state portate avanti, però noi sapevamo che questa delibera di adesione alla strategia rifiuti zero doveva essere soltanto un punto di partenza, un punto di partenza per un cammino che proponeva l'adesione di tante buone pratiche, tante piccole azioni che portassero proprio a raggiungere questo obiettivo di una buona gestione di rifiuti. Marzo 2014, quindi siamo arrivati quasi ad un anno da quella data e iniziamo a porci delle domande perché tante piccole azioni che abbiamo scritto in questa delibera noi poi non le abbiamo viste e realizzate concretamente. Quindi ci iniziamo a porre delle domande sul piano di intervento per la gestione dei rifiuti, a che punto sia, sull'osservatorio comunale sulla gestione dei rifiuti che è alla base della strategia rifiuti zero, proprio un osservatorio che garantisca una trasparenza a tutti gli effetti su tutto ciò che riguarda la gestione dei rifiuti. Quindi tante sono le domande a cui aspettiamo una risposta. Appunto tante le domande alle quali voi aspettate una risposta, risposte che fondamentalmente poi a quali benefici dovrebbero portare? Noi pensiamo che Paternò come comunità, a prescindere dalle normative regionali, che siano SRR, che sia gestione comunale, debba avere un'idea chiara di quello che deve essere la gestione dei rifiuti, un'idea chiara che funzioni e che sia condivisa, che rispetti appunto i principi della trasparenza e della partecipazione. Per questo noi chiediamo appunto, facciamo questo appello alla politica paternese in generale, che sia quindi sia l'amministrazione, sia il consiglio comunale, sia anche gli uffici tecnici. Chiediamo a tutti questi soggetti sostanzialmente di prendersi la responsabilità di attuare concretamente questa proposta di modello, di soluzione che noi proponiamo. Quindi stiamo parlando di pianificare, pianificare razionalmente a lungo termine e pianificare in maniera condivisa e partecipata. Dunque nulla di fatto sul piano pratico per la strategia rifiuti zero e tali ritardi portano a fare tre domande. A che punto è l'attuazione della delibera sull'adozione della strategia rifiuti zero? Se il Comune sta provvedendo alla stesura di un piano rifiuti, pensando soprattutto ad una pianificazione partecipata? E se, infine, è possibile visionare i dettagli che spiegano le modalità di attuazione della raccolta dei rifiuti e le ricadute sulle nostre bollette? Oltre a cui...